Lei avrà sentito che in questi giorni ci sono state tante polemiche per il reddito di cittadinanza a Saracenia? Se vuole mi manda una mail e vedrò se personalmente posso rispondere. Ma siamo qui, non le possiamo rubare un minuto solo per avere una risposta? Non su qualcosa che esuli dal motivo, mi dispiace, può scrivermi una mail in cooperativa e io vedo se è possibile per me rispondere, se sono cose che posso, hanno un senso.